ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a voi che state guardando un'altra simpatica puntatella dedicata ai vostri video dai ai vostri orologi questi pezzi del ferro che tanto ci fanno appassionare e che poi a volte però ci danno anche qualche non soddisfazione nel senso che la prima non soddisfazione è quando non riusciamo a sfamare la scimmietta nel senso che orologio che vorremmo che non possiamo permetterci che non ci arriviamo che non troviamo o insomma è in quel momento lì si sa che gli si sta togliendo qualcosa lei quindi ci rimane un po qua sullo stomaco il fatto di un poterlo avere però è in secondo luogo quando è che ci danno poche soddisfazioni quando si rompono è per questo motivo che bisogna averne tanti e in questo caso rientra di nuovo in scena lei perché con tanti orologini lei è contenta quindi si riesce a sfamarla e si riesce anche ad avere dei ricambi nel momento in cui si rompe un orologio si graffia no quando si graffia l'orologio è la fine del mondo ho visto persone che mandano video sono veramente affranti sono veramente sono a rischio depressione per un piccolo graffietto magari fatto con il carrello del supermercato in questa vita un po così al limite no quindi noi li guardiamo e poi traiamo le nostre conclusioni qualcuno potrebbe rientrare nei nostri gusti far parte della nostra collezione in futuro magari come una chimera lo vediamo altre volte invece è molto più possibile perché con pochi soldini riusciamo anche ad accapparrarci degli orologi interessanti ora prossimamente mia intenzione portarne un altro un altro orologino adesso sotto i 200 euro che vedrete qua sul canale se riesco che dà soddisfazione anche quello lì che fa il suo diciamo così che è molto bello tutte queste cose messe insieme rendono l'orologio perfetto è dipendentemente dal costo così come i voti che io schiocco ci sono persone che lo prendono troppo sul serio nei commenti sotto e ma non potevi dare 9 a quello lì ma non avete capito che è un gioco è un gioco ragazzi cioè non è che siamo qua a fare le classifiche si dà il voto così per divertimento no gente la prende sul serio no così no perché questo qua 10 10 10 no 5 dovevi dargli 4 queste minchiate qua che lasciano il tempo che trovano ora prima di guardare il vostro videino vi faccio vedere il mio orologio del giorno che è questo rolex yacht master simpaticissimo orologio col calibro 32 35 di rolex il quadrante blu la sfera dei secondi rossa la ghiera in platino è orologio per tutte le occasioni che insomma da quando l'ho preso lo sto indossando molto spesso mi piace è proprio veramente mi piace lo sto indossando più di quanto ho indossato l'explorer quando l'ho preso e più di quanto ho indossato il digest quando l'ho preso cioè facciamo no facciamo questo genere di paragone compri un orologio lo vuoi subito indossare tanto insomma anche per giustificare la spesa no hai speso i soldi e lo devi indossare sennò cosa ne spesi a fare i soldi ecco questo sto indossando più degli altri due quando l'ho presi diciamo così se mi sono spiegato se non mi sono spiegato ci spiegheremo se non ci spiegheremo spiegheremo le vele e per adesso però invece di spiegare schiacciamo fuoco alle polveri ciao davide sono manuel da pescara manuel di medicina ancora per poco si spera ti mando questo video per mostrarti ovviamente la mia collezione ma bravo 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 da precisare che ti seguo da circa un annetto e mezzo poco poco perché non sono mai stato un appassionato di orologio quindi possiamo dire che sono un novellino appassionato di orologi perché dove invece di fare medicina devi fare veterinaria veterinaria perché ti è salita una cimmetta sulla spalla e quindi devi prenderti cura di lei hai capito veterinaria come specializzazione mi raccomando eh il franzo mio padre che invece è un grandissimo appassionato di orologi che ho sempre preso in giro dicendogli ma tutti questi soldi per un orologio quando l'orario lo puoi vedere bravo no è anche più preciso in generale non mi sono mai piaciuti gli orologi perché non me li vedevo mai bene al polso dopodiché che cosa è successo è successo che ho trovato questo swatch appartenuto a mio padre cavolo in un cassetto di una scrivania e con la sua scatola full set full set garanzia e scatola e quando ho trovato particolarità quando io ho trovato la garanzia riporta che è stato acquistato nel 92 quindi mio padre aveva 28 anni quando l'ho trovato trovato io avevo praticamente la sua stessa età e da qui mi sono appassionato agli orologi e per questo motivo rimarrà nella mia collezione perché mi ricorderà diciamo l'orologio che mi ha fatto appassionare a questo mondo è giusto giusto e dopodiché diciamo che ho iniziato a fare un po' ricerche per comprare diciamo il mio primo orologio e vabbè questo è il classico quarzon quarzon ancora quarzon preciso quanto nel primero ma un quarzon dopodiché ho acquistato l'orologio da battaglia bravo la battaglia che è veramente la battaglia perché un amico mio mi ha detto che questo bin laden ci facevano le bombe talebani però comunque scherzi a parte diciamo che come dici tu fa il suo molto simpatico simpaticissimo diciamo iconico dai iconico dopo di che mi sono appassionato soprattutto al vintage soprattutto al vintage omega di botto così per questo fino a quando ho diciamo un amico commerciante di orologi aveva un pezzo in vendita e da lì quando l'ho visto me ne sono me ne sono praticamente innamorato follemente ed è il pezzo che io è il pezzo per il finora stiamo vedendo più più immagini di questo tavolo quella parete lì che orologi cioè voglio dire quale io ti sto mandando questo video perché ci tengo molto a diciamo a mostrartelo ed è questo qui il pezzo è un omega constellation automatico del 1966 scatola e contro scatola dell'epoca da precisare che io ho comprato solo l'orologio e non da questo mio amico perché poi mi sono documentato sui corredi omega dell'epoca alla fine sono riuscito a trovare la scatola e contro scatola originale ok adatta a al modello che io ho acquistato ora prima di aprirla era quello che volevo dirti cioè siamo sicuri che perché l'ho vista rossa così nuova 62 66 quello che hai detto invece mi hai mi hai precisato che hai fatto una ricerca che hai studiato ti sei informato quindi non ho dubbi sul fatto che tu abbia scelto quella corretta no bravo stato questa è la scatola dell'epoca come puoi vedere in condizioni ottime commoventi e certo mamma mia quelle sono veramente commoventi cioè quelle degli primi anni 2000 come quelle che ho io dell'acquaterra o del del devil cioè sono si sfarinano proprio perdono la pelle rossa che va da tutte le parti come la tocchi ti rimangono appiccicati pezzi rossi sulla mano no sta qua proprio c'è stato un momento ora le scatole sono ottimi quelle di omega no sono solide belle anche gra anche troppo queste quali degli anni 60 non guarda come si sono mantenute quelle e mezzo lì anni 90 anni 2000 veramente davete sei mani nei capelli e l'orologio un constellation omega constellation pipe and dog leg nel 1966 mamma mia condizioni incredibili è bello strumento quadrante che da ritrovare in questo stato sia una impresa perché tutti hanno fioritura in generale sono tutti un po ammuffiti scoloriti eccetera eccetera questo è in condizioni impeccabili e quando devo comprare un orologio vintage sono uno di quelli che se tutto mangiucchiato non me lo compro perché non mi piace mi piace quando i vintage sono rimasti diciamo nel tempo all'epoca alla loro epoca è un modo di interpretare collezionare gli orologi vintage non è sbagliato io invece non mi faccio fermare da questa cosa ossia mi piacciono sia quelli vissuti mi piacciono sia quelli mi piacciono anche quelli rovinati ho comprato dei longini che a vederli così che non voleva nessuno magari col quadrante che abbia anche colore mi piacciono anche quelli lì come mi piacciono quelli come questo qua che si sono mantenuti nel tempo come mi piacciono quelli no cioè veramente no nel senso che fondo di magazzino tirato fuori col cartellino ancora attaccato uguale hanno tutti e tre un motivo per piacermi hanno senso non è che uno esclude l'altro certo fa piacere ora ad esempio l'ultimo longin quello l'admiral quello con la cassa quadrangolare no mamma mia che bello era blu però è completamente cambiato il quadrante ha perso il colore si vede l'ottone che è uscito fuori e a quel colore ruggine no ma è uno di quelli che indosso ultimamente con piacere più spesso non è che mi ferma quella cosa lì non mi ferma se lo avessi preso quasi in tonso probabilmente mi sarebbe piaciuto ugualmente hai capito cosa voglio dire non mi faccio fermare da queste cose certo che questo qua io veramente lo vorrei il mio unico problema sarebbe che con il bracciale sicuramente avrei dei problemi perché ho avendo un polso abbastanza grande di circonferenza gli orologi con il bracciale vintage arrivano tutti con il bracciale da signorina lady boy e quindi a me a comprarli online no vado su vado in negozio sulle bancarelle li lo provo e valuto se posso e in questo caso sono stato fortunato gli ultimi due longin che ho preso col bracciale che mi andava bene comunque questo qua è veramente bello orologio che vorrei anch'io nonostante devierei dalla mia collezione di longin però ci devierei volentieri per questo pezzo qua mamma mia che bello come come questo ovviamente mi sono documentato molto meno male questo orologio tant'è che lo studio studio costantemente diciamo in generale sui forum omega americani non solo su molte guide molte guide fatte da commercianti internazionali eccetera eccetera e ti posso voglio raccontarvi un po delle caratteristiche di questo orologio è un 34 mm 42 mm di lag to lag e con movimento certificato cronometro calibro omega 551 corona deca decagonale originale e osservatorio posto sul fondello in onore diciamo dei meriti conseguiti da omega in termini di precisione in quegli anni e questo omega viene definito dog leg proprio per le la forma delle anse che ricorda la gamba di un cane e paipan per il quadrante un quadrante cioè svasato a livello degli indici che ricorda paipan cioè ricorda la tortiera o la teglia per torte capovolta quindi una volta che messa capovolta è questa è svasata ai lati questo modello di solito usciva con il cinturino e con una fibbia omega ad ardiglione ma in dotazione successivamente il cliente poteva anche scegliere di montare un bracciale il bracciale era un bracciale da montare è un bracciale a chicco di riso con deployant omega che bello ricordare che ho fatto satinale rilucidare il quadro il bracciale ma la cassa l'ho lasciata in tonza buono è un orologio completamente quindi completamente originale ho sostituito il vetro ho messo un vetro nuovo ma attenzione il vetro l'ho messo anche quello originale perché non volevo siccome sono malato su queste cose non volevo metterci un vetro generico quindi mi sono documentato ho cercato la referenza di vetro corretta per questo modello qui che è la 063 pz 50 14 sono riuscito su cosins.co.uk che è un sito dove si vendono tutti i ricambi per orologi li sono riuscito a trovare la scheda tecnica dell'orologio le referenze per corona vetro eccetera eccetera dopodiché su ebay ho trovato un fondo di magazzino da un fornitore e quindi ho rimesso il vetro nuovo ma originale e non generico dopodiché mi sono documentato prima ovviamente di acquistarlo sulle corretti sulle corrette referenze per clasp perché come vedi qui all'interno della clasp è cioè il la referenza questa è una 1503 e i finali sono finali 70 questo tipo di bracciale definito viene definito il bracciale a chicco di riso 7 row perché se noi contiamo sul finale troveremo 7 piccoli chicchi di riso questo tipo di bracciale usciva anche il chicco di riso anche come chicco di riso 5 row quindi sul finale è possibile contare invece di 7 5 chicchi di riso ma veniva montato questo tipo questo il 5 row veniva montato preferibilmente su easy master mentre più facile riscontrare la presenza del 7 row quindi come questo sui constellation che ha un chicco di riso un po più schiacciato rispetto al 5 row che è molto più bombato la referenza per la clasp per il 7 row per questo sono la 1503 e la 1068 ma anche mi sembra la 82 50 82 70 ora non ricordo bene e i finali sono i 70 o i 570 ma montava anche i 128 addirittura ci sono due tipi di finali 70 prodotti in diversi momenti del millen degli anni 60 mentre quell'altro a chicco di riso 5 row montava delle clasp con delle referenze con un numero in meno rispetto al 7 al 7 row quindi invece di 1503 1502 e invece di 1037 un'altra referenza per la clasp adatta montava la 1036 e finali 11 o 511 e quindi se a qualcuno può servire è insomma sto lavorando tra l'altro anche ad una guida per riconoscere anche quadranti ristampati eccetera eccetera perché proprio mi piace studiare è normale in generale conoscere e insomma questo è il mio orologio che uso tutti tutti i giorni perché l'orologio tutti i giorni si deve mettere adesso niente quindi ti saluto dal mio amato omega constellation pipe anti io ho ridefinito peter pan per prendere in giro questo mio amico commerciante di orologi che quando lo vendeva e questo questo è quanto with love ciao davide dove sta la decima sta qua ecco ciao davide ciao 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 praticamente tutto sto video per un orologio solo che è un signor orologio io mi devo complimentare con te perché se ha esordito dicendo è un anno e mezzo non mi interessavano gli orologi ho trovato lo swatch no e poi ho detto adesso ci farà vedere tutta una una smandrappata di orologi insomma no andrebbe il fort armani poi ho preso questo qua poi ho preso il pro master no questo è il classico percorso che fanno tutti i neofiti diciamo così ora si è partito subito già a partire con la passione per il vintage è dura è cioè dura perché come vedi bisogna studiare cioè bisognerebbe studiare poi si può andare al mercatino comprare l'orologio che si trova per il gusto di comprarlo non è sbagliato nemmeno quello ragazzi cioè voglio dire non è che non si può fare vai al mercatino degli orologi no sulla bancarella ti trovi un tecnos oppure un vetta degli anni che furono e lo prendi da quei soldi che devi dargli per godertelo senza sapere niente fatto anch'io faccio anch'io non è sbagliato poi magari dopo un po di curiosità ti viene una volta che l'hai preso vai a studiare ti rendi conto eh sì ma la corona non è la sua forse però questo quell'altro è graffiato ma la cassa è cromata cavolate no ci si passa a tutti è valida anche quel sistema lì è valido no con quel sistema lì però magari si va ad accumulare un sacco di orologi poi senza un senso psicologico ma va bene anche quello totti passa anche quello che invece sei partito subito col vintage e però vedo che c'è l'inclinazione giusta cioè probabilmente il fatto che sia uno studente universitario ti porta facilmente ormai sei abituato a studiare no c'è quel modus operandi quella forma mentis dello studio e quindi la applichi in tutti gli altri campi ed è per questo che è importante no la scolarizzazione diciamo non tanto per apprendere nozioni ma per apprendere un metodo che poi porti avanti nella vita no in qualsiasi campo e te stai studiando cioè sai di questo orologio sei vita morte miracoli io all'inizio ho esordito dicendo ma scatola ma il bracciale no perché non sapevo che ero mi stavo confrontando con una persona che aveva studiato tutto e sapeva tutto cioè sai veramente tutto e questo è l'approccio giusto ora tu hai un orologio perfetto bello tutto regolare ora però il rischio qual è che una volta presa questa piega come diceva rocco si freddi e devi continuare su quella cioè non ti puoi più accontentare di comprarti un longine vabbè sì però non so ma forse il bracciale non è il suo ma è malaclasma ormai ha preso questa piega e devi portarla avanti su tutto cioè è casino e diventa da una parte può essere positivo perché così fai meno acquisti compulsivi nel senso che se ti devi informare studiare cercare il modello che vuoi e ne passa di tempo non è che ti accontenti del primo che vedi fai clic come a volte faccio anche io e vai lento però ti perdi però tutto il resto no vabbè il tempo ce l'hai la vita è lunga per te vabbè io il voto però non te lo posso dare su un orologio mi dispiace ma mi astengo mi avvalgo della facoltà di non rispondere che quella mi ha sempre detto l'avvocato che non si sbaglia mai e quindi avvalgo della facoltà di non rispondere e vediamo poi nel prosieguo della tua vita se manderei altri video ci aggiornerai quando mandi l'altro video però ricordamelo che avevi l'omega constellation tutto perfetto magari non ti riconosco faccio la mezza figuretta vabbè prossimo video ciao davide sono marco da pistoia e ti presento la mia collezione certo partiamo con gli orologi di mamma e babba trovati in un cassetto questo è un citizen al quarzo anni 80 simpatico molto vissuto e vabbè poi invece passiamo a questo molto più interessante è un long in carica manuale senza lancetta secondi oro 18 carati bracciale d'oro molto 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 bello molto piccolo eccolo qua fammi vedere fammi vedere le scrittine che ci sono dentro oro 18 carati tre decimi è lo spessore poco tre decimi lo spessore delle pareti della cassa insomma tre decimi poi c'è il classico simbolo di il mani dietro a martello c'è poi il codice del cassaio di chi ha costruito la cassa che da qua non leggo tutto tutto regolare bello per l'age e poi c'è che la foto della tua collezione totale vabbè e calibro non lo leggo non lo riconosco non lo riconosco non leggo qua c'è scritto totto e poi se riesco ti metto la foto del calibro bello roloso e si bellino piccolino però poi un ultimo questo filip watch placato d'oro cinturino cambiato io carica manuale carina che questo simpatico abbastanza piccolo fa il suo poi passiamo al mio primo roloso da quando andavo a scuola questo setto anni 90 classicone degli anni 90 ma certo ce l'hanno avuto tutti poi primo regalo altro lorenz a 18 anni questo lorenz energeo quello con l'accumulatore che carica insomma che si è rotto molto diciamo dopo qualche anno si è rotto e per accomodarlo costa un botto e niente che tratta era anche fatto bene con un roloso vetro zaffiro e tutto a su tempi era un bello roloso sempre a fine anni 90 2000 sarà cioè che con l'accumulatore che si ricarica sarà calibro kinetic di seiko perché no altrimenti non mi sovviene nessun altro calibro che ricarica un accumulatore senza carica solare no quindi con la massa oscillante lì che ricarica l'accumulatore kinetic di seiko quello e questo è un voto ripararlo e dice poi col primo stipendio mi sono andato da questo sector al quarzo cronografo che purtroppo mi rimasta batteria dentro e niente non possiamo più salvare la batteria in fin card comunque è stato il mio primo roloso mi è piaciuto un sacco e lo tengo in collezione per la cosa vuol dire aver rimasto la batteria dentro toglie ma siamo invece al mio primo roloso meccanico a coli un camasso e camasso simpatico che dice un classicone mi è piaciuto subito mi piacciono gli orologi sportivi ci ho messo questo jubilee di un sito cinese comunque è bello maglio piene fa il suo come dicono tanti un po' vissuto però molto molto bello molto bello citizen suyosa simpatico anche lui un orologio bello e tra l'altro come orologio riceve più apprezzamenti di tutti i miei orologi anche se non è che abbia grandissimi orologi ma comunque un rapporto qualità prezzo fa la sua figura questo orologio sembra molto più costoso di quello che è e poi fatto benissimo niente niente da aggiungere passiamo bravito kagified meccanica 38 questo ho messo questo nato bello quello nato bello come che dire un classicone carica manuale e vetro zaffero niente niente molto comodo molto molto 38 millimetri e poi sottilissimo un classicone un classico poi sempre rimanendo in casa e metto bello questo mio unico cronografo c'è anch'io questo intramatic uguale uguale meccanica a cui ho preferito meccanica dall'automatico per per un discorso di vetro anche soprattutto non so al polso sono diversi sembrano foto sembrano molto simili poi al polso il vetro piatto dell'automatico mi dà un'idea che non mi piace ecco questo mi piace molto di più mi dà un'idea più vintage va bello poi passiamo un po agli sportivi doxa sub 200 doxa sub 200 moroso che la morte sua e l'estate al mare sia colore tratto non l'hai visto anche nelle cartoline dal mare a se ho mandato era mare proprio con lui acqua marina bello orologio ti fatto bene il rapporto poi da prezzo il tifani poi idroconquest longine idroconquest la referenza prima di quella che c'è ora comunque molto sempre cavi l 8 8 8 e 39 millimetri ho scelto questa referenza perché secondo me il quadrante con l'indiciero applicati e tutto mi piace di più ma è piena di più me lo fa cambiare ma non si sono gusti bene anche nuovo però mi sembra un po vuoto soprattutto nella misura 41 è proprio vuoto secondo me questione di gusti questione di abitudine no una volta che ridossi quello la un po più vuoto ti abitui a quello magari vedi questo qua troppo pieno no per l'altro c'è la ghiera ceramica è vero vabbè insomma queste dei gusti bello che io ad esempio a mi piace io ce l'ho preso recentemente quello con i numeri arabi tutti intorno lo preferisco lo preferisco ad esempio ognuno poi poi un altro dai per fatto acquarese anche topi noto 300 metri 41 millimetri bello bello mi piace un sacco sportivo ma comunque a sottile 41 mm mi polso da 18 sta benissimo comodo preciso simpatico niente da aggiungere come come un orologio un bracciale comodissimo rastrevo molto confronto all'orgine ecco non c'è paragone di bracciale di comodità fatto molto meglio assia poi siamo alla fine tutto il black bay tutto il black bay city l'ho cambiato il bracciale ho messo il jubilee so che te non approvi queste modifiche su questi orologi però come dire si prova il suo bracciale naturalmente comprato braccialato e sicché ho voluto provare questa sta anche bene la configurazione devo dire che mi piace per ora lo tengo sia un bracciale fatto benissimo non è un bracciale un po il colore diverso dell'altro dell'orient questo un braccialone bello po diverso il colore della cia un orologio bellissimo precisissimo che il miglior orologi e per concludere questo rato un gol di nuovo messo proprio quello bello 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 trovato anche se sono un amante oggi sportivi un po più grandi con la ghiera però l'orologino da mettere sotto la camicia questo è fantastico verde no sotto la camicia molto sottile ben realizzato un quadrante molto bello 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 davvero e con questo ti saluto saluto tutti amici del canale ciao 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 vedo che apprezzi nonostante 18 cm di circonferenza polso apprezza anche gli orologini piccolini come il 37 mm del golden horse che ho avuto anch'io 19 di centimetri di circonferenza e ce l'ho avuto nero con bracciale chicchi di riso e l'andossavo anch'io con piacere mi stava bene mi stavo bene cioè ci vuole anche no in collezione ogni tanto qualche orologino un pochino più compatto come ci vuole qualche orologio strabordante da 45 da 46 come vi pare a voi no insomma non è che bisogna fissarsi sempre siccome che piccolo è bello che grande è bello ci vuole l'orologio vistoso o l'orologio understatement che quasi scompare non è via di mezzo cioè ci vuole uno ci vuole l'altro a seconda del mood a seconda dell'occasione va bene così 37 mm la tua collezione è una bella collezione a parte quelli iniziali che insomma mi hanno un pochino fatto temere per il peggio eh di sector guardate la batteria dentro che sta è morta e infingardamente te l'ha distrutto e vi diamo un 7 un 7 alla luce della metà in poi veramente un bel 7 se lo merita tutto a me mi è piaciuto anche anche il fatto che tu abbia messo il bracciale jubilee al tutto il black bay blu ci stava però mi sembra un po di vero differente colore dell'acciaio forse erano i riflessi però ci sta bene anche perché il black bay quello con la ghiera rossa da 41 lui esce con un bracciale semi il jubilee se non mi sbaglio e siamo già abituati a vederlo quindi in quella configurazione lì te l'hai messo su questo ci sta non è che non approvo cambiare i bracciali sugli orologi costosi no vabbè cinturino si però andare a spendere tanti soldi su un bracciale per proprio snaturarlo non mi va giù non è che non approvo se te l'hai fatto fatto hai fatto bene sta anche bene bello ti ringrazio per il video e ci vediamo la prossima volta prossimo buonasera davide sera finalmente riesco a condividerti la mia collezione bravo dico finalmente perché sono circa due anni che ho iniziato a collezionare orologi vintage vintage anche per quanto faccio subito vedere i due non vintage che ho acquistato appunto due anni fa sono entrambi due giapponesi di forma vabbè non degni di nota dal punto di vista tecnico esteticamente mi erano piaciuti ma perché ridi cioccolatini cioccolati di forma insomma citizen e casio aveva chiamati quell'altro non mi ricordo più passando ora ai miei amati vintage vorrei partire subito con lui che è uno dei miei preferiti è uno zenith 1200 calibro carica manuale movimento calibro 40 t e cassa da 34 millimetri cinturino originale su per anni 70 e beh anche brutto una generica e se ne faremo una ragione corona generica da dopo di che possiamo passare a questi due micro brand entrambi francesi ma è sì philly shave cos'è la barba e l'anor e in questo caso non ho tanto da dire se non che applicandogli questo cinturino milanese esteticamente mi piace molto per quanto riguarda lui l'anor dei date mi piaceva molto oltre al a questa cassa stile nautilus l'anor il fatto che il colore della cassa ricorda la l'occhio di tigre è una pietra preziosa particolari sfumature ora te mi sovviene che te ne ho parlato prima nell'altro video no quello di andare mercatini prende tutti i marchi sconosciuti e accumularli te quell'altro in un anno e mezzo ha preso un omega un omega solo vintage se l'è tutto studiato e l'ha cercato di costruirlo perfetto con la scatola e te in due anni più o meno il periodo equivalente invece sei andato a paratapatapatapà prende tutti i marchi sconosciuti quello che vedevi sulla bancarella bello questo lei dice bello questo bello questo bello questo e te piglia piglia poi ti trovi un philip shave e un lanor pura lana vergine collezione vabbè sto scherzando perché ci sta ripeto lo facciamo tutti abbiamo fatto tutti e si continuerà a fare va benissimo così è mosso molto dall'estetica quindi non da altro nella scelta di questi pezzi bravo non è solo estetica ma soprattutto in questo caso stile non scontato per il brand che è il tuo amato longin questo è longin conquest elettromatic no elettronic in ogni caso è abbastanza sgangherato e non riesco a fare il fuoco elettroniche di quello con il suo artiglione originale l'oro placato se ne sta andando sgangherato è l'aggettivo giusto per questo longin che comunque sia non l'ho visto molto in giro e mi sono detto caspita lo prendiamo ci sarà un motivo è secondo me elettroniche ora se ci fosse stato scritto ultroniche sarebbe stato al diabo elettroniche c'è anche un elettroniche longin è quel calibro fatto da esa che è completamente elettronico che però mantiene il bilanciere tradizionale è particolare a batteria anche questo però non è a quarzo è il controllo del tempo lo dà il bilanciere poi passiamo a questo omega omega deville bello al quarzo artiglione omega fibbia mi piace molto questa cassa da 35 mm se non erro o meglio la patina nel quadrante mi piace molto sono indeciso se sedirti molto bella o esotica però mi piace mi piace veramente molto bravo un quarzo però dopo di che abbiamo anzi andiamo con lui questo 6 corelli degli anni 70 automatico col movimento 7006 che mi pare sia un bel movimento per per seiko cassa da 41 mm la cassa più grande che ho in collezione a citturino ho messo un cinturino nato che va a riprendere la la ghiera un po luci ha degli inserti in lancetta e qui sopra luminescenti che insomma diventano fluorescenti al buio lumi bright poi possiamo passare a lui che è che è un brattling tour dei tali o in condizioni ottimali oppure ristampato in ogni caso con il suo cronometro il cinturino sta molto bene a mio parere ancora di più forse ora che siamo in autunno in oltratto un bel testa di moro cosa che probabilmente farò a brevissimo è bello anche in questo caso purtroppo abbiamo la corona generica ma abbiamo eccolo qui lo placato se riusciamo a mostrarlo brattling almeno peccato per la placatura per la corona insomma insieme allo zenith 1200 e probabilmente a un altro paio di quelli già mostrati c'è lui che è di un eleganza assurda il credor ultra piatto 5 mm movimento seico movimento ora non ricordo quale se non sbaglio cinquemila corso che c'è una torta 1 se non erro il il taglio qua della della corona è il taglio cabochon se lo faccio si c'è questo 12 romano che c'è tra niente so dai tuoi video che non ti fa impazzire neanche io sono un fan dei numeri dei numeri romani però qui devo ammettere che ci sta veramente bene fa su spero ti sia piaciuto insomma questo video di essere stato rapido e spero tanto di rimandartene uno presto un caro saluto un saluto sempre e comunque love oh ti do un 6 e mezzo non è mica tanto niente di cioè quando ho visto il brattling ho detto cavoli sprazzo di felicità poi il quadrante non si sa se è stampato se è originale biancone biancone poi la cassa è tutta placcata a oro la corona non è quella originale mi si è spento tutto capito cioè gli altri cos'erano tutti a sé partito con i due quarti poi lo zennettino i vintage sconosciuti i longini elettronic se l'omega il quarzo l'omega il quarzo non si può vedere secco vintage il brattling e poi l'ultimo credo al quarzo che colori da 65 sono nessuna che di manica larga oggi a 65 non mi ha non mi ha non mi ha fatto la mia cimità non la sento non la sento energetica la vedo che un pochino lì così che si sta mangiando le sue noccioline che ci aveva di scorta perché qua non ne ha trovate è così ciao davide ciao saluto a te e tutti gli amici del canale sono riccardo dalla provincia di monza monza ma cosa sei un nerd geografico sei perché c'è il mappamondo là poi c'è la cartina il plan del mondo quasi qua giù a sinistra la io non so cosa c'è welcome sarà qualcosa di strano però ci volete lanciare dei messaggi che a volte però io non comprendo non riesco a carpire oggi sono qua a mostrarti quella che la mia piccola collezione di orologi ma mi sono avvicinato a questo mondo più o meno in età adolescenziale mi ricordo che spulciavo su instagram e sui primi social quelli che erano le foto di questi fantomatici influencer ed ero assolutamente folgorato e entusiasta di questi pezzi d'arte al polso ed ero diciamo anche affascinato un po dallo status e da quello che simboleggiavano un po diciamo che ovviamente crescendo poi ho iniziato ad apprezzare anche un po più le caratteristiche tecniche che trasmettono al di là del semplice valore economico piuttosto che l'atto estetico partiamo subito con quello che se vogliamo il mio primo acquisto con cognizione di causa ed è questo victorinox inox sui sarmi in edizione carbon quindi con la cassa realizzata in fibra di carbonio mamma mia che best cassa da 43 mm movimento sellite sv200 con 38 ore di riserva di carica e questo se vogliamo un po il simbolo ed è l'emblema l'emblema ho iniziato ad avvicinarmi a questo mondo e mi ricordo che sono andato a ritirarlo in gioielleria assieme a mia madre e quindi ha un significato anche abbastanza affettivo al quale ho montato questo simpatico cinturino nato da 15 euro bravo bravo passiamo poi a al secondo e diciamo uno dei miei orologi preferiti in collezione che è questo scusa mi hai mai detto ho iniziato la passione in età adolescenziale io ho incominciato a ragionare ma adolescenziale è tutto relativo dipende quanti anni hai adesso no poi mi metto che spulciavo su instagram quindi già il periodo si accorcia e adesso il secondo acquisto il prx che è uscito ieri e quindi cioè se è ancora adolescente cioè non è che è cambiato molto è so prx powermatic 80 ricordo quando ti so annunciò nella di questo nuovo modello ed ero assolutamente eri un boccia esaltato e non appena diciamo che ha presentato la versione col calibro automatico non ci ho pensato due volte bravo corso ad acquistarlo e ad oggi ripeto è uno dei pezzi che più apprezzo e simboleggia veramente quello che è per me la passione insomma lo indosso con piacere o si voleva la frase passiamo poi a un paio di pezzi dal valore diciamo affettivo e storico così se vogliamo storico e partiamo con questo omega costellation dei date con il quadrante placcato in oro giallo oro 18 carati e questi indici con numeri romani che so che apprezzi tanto la referenza dovrebbe essere un 19 61 0 70 ed è una referenza degli anni 80 diametro cassa di 33 millimetri nonostante il mio polso da 17 centimetri e mezzo comunque la vestibilità è ottima dici è un orologio che acquisto mio padre appunto negli anni 80 e ho deciso di restare restaurare se così vogliamo dire con questo splendido cinturino all'alligatore morellato e ho recuperato anche la clasp la chiusura di oro giallo originale è la fibbia niente veramente carino anche se è un quarzo è un quarzo passiamo poi a un altro pezzo dal valore affettivo inestimabile che è questo longin 18 carati quadrante bianco quindi white dial che ha veramente ripeto un valore affettivo inestimabile in quanto apparteneva al mio pro zio di origine belga passato poi successivamente a miglior vita e lasciato a mio padre successivamente regalatomi ma la clasp senza logo ho deciso quest'estate di farlo restaurare quindi ho fatto un service completo nonostante purtroppo il movimento sia il quarzo e ho fatto lucidare poi tutta la cassa e il cinturino penso che comunque faccia la sua porca figura nonostante io abbia scoperto tramite l'orologio che il cinturino non è della referenza originale ma è chiamiamolo un aftermarket ah ecco non è della referenza non è non è non è non è c'è mancare il logo sulla clasp che c'è sempre quindi cos'è è d'oro è d'oro anche non è sarà placato il quarzo è placato vabbè c'è il suo valore affettivo vabbè comunque sempre è d'oro 18 carati quindi da un buon valore e comunque l'estetica penso sia classe assoluta passiamo poi agli ultimi due pezzi che ho acquistato quest'estate e cosa sono i primi risparmi lavorativi bravo e di cui sono particolarmente fiero fiero ovvero questo black bay con questa ghiera anodizzata di questo verde splendido chiamerei un verde militare molto particolare verde oliva questo quadrante nero e niente diciamo che quando era stata presentata questa collaborazione ero rimasto folgorato e estasiato e lo voleva ad ogni costo però l'orologio era praticamente incomprabile le quotazioni erano parecchio alte quindi ho atteso però quest'estate sono riuscito a prenderlo non appena tornato disponibile niente movimento di manifattura tudor mt 5602 certificato COSC e niente sono veramente innamorato perso sì ma se mi dici che hai fatto con i lavoretti estivi non so che lavoretti fai ma te ne sei spolpati un bel po' di soldi per prenderti quell'orologio lì almeno due stipendi tre ma se non tre c'è babbo è spesi bravo comunque hai fatto un bel percorso della fine chiudiamo dire in bellezza con quello che è l'ultimo arrivo qua posso fare una piccola premessa ovvero che la scimmia colpito e affondato in questo caso sia il conto corrente che il sottoscritto nel senso che è stato proprio amore a prima vista non appena ho scoperto questa referenza ho visto un paio di profili instagram mi sono iniziati apparire annunci di ogni dove fino a quando ho trovato diciamo un'offerta interessante da parte di un rivenditore olandese ho deciso o meglio qualcuno ha deciso per me di procedere con l'acquisto ti mostro questo splendido omega speed master professional edizione limitata per le olimpiadi tokyo 2020 come tutti ben sapranno non si sono mai tenute ed è appunto una referenza molto interessante a mio avviso una tra le più belle se non la più bella addirittura della serie presentata appunto in occasione delle olimpiadi che non hanno tenuto parte causa covid 21 niente calibro di manifattura 18 61 e niente sono veramente innamorato di questa ghiera rossa e di questo dial con questa finitura veramente particolare niente spero che la collezione vi sia piaciuta ti chiedo cosa penseresti di inserire in collezione francamente se dovessi pensare di rimuovere qualcosa vorrei magari dar via il victor inox nonostante ci sia un valore affettivo comunque penso sia il punto diciamo un po carente se vogliamo così dire in collezione e vorrei magari sostituirlo con un pilot piuttosto che o addirittura semplicemente non togliere nulla aggiungere un gmt poi vedremo quale referenza con il tempo un saluto ancora tutti e grazie per grazie a te per la compagnia che che ci lasci con i tuoi video ma presto ciao a presto ciao 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 ma è una bella una bella collezioncina adesso soprattutto gli ultimi due pezzi considerato poi non so io poi non so nemmeno di famiglia uno come sta sono soldi soldi spesi e poi alla tua età adolescente eri ieri perché da quello che si è capito prx e così io lo guarda ti do un 7 un 7 te lo do soprattutto per gli ultimi due pezzi che sono veramente belli belli lo speed master bianco con la ghiera rossa io non lo comprerei infatti ho preso quello nero che tradizionale però comprendo che ha il suo bel perché perché la ghiera rossa ha un appeal ha un certo appeal anche su di me come ben saprai quindi bel set poi hai preso hai preso le versioni particolari di orologi iconici hai preso del tudor black bay no hai preso quello versione arrod è particolare con quella ghiera col colore lì e dello speed master quello bianco con la ghiera rossa piuttosto che quello normale di solito uno o perlomeno io parto pensando prendere sbaglio magari a prendere il modello più rappresentativo no lo speed master nero insomma proprio invece ti ha fatto due scelte probabilmente dettate dalla giovanetta a questo punto spero che non ti pentirai magari di non aver fatto potrebbe ti potrebbero anche stufare queste cose colorate così però va bene per adesso va bene così per il futuro un pilot no io rimango su questi budget così anche un pochino meno per non andare poi a pesare io un pilot normale di quelli un po più civili nono fliegheri come sai longe spirit con quello lì fai un figurone al polso proprio veramente fatto bene gmt ti consiglierei il bright l'incronoma de gmt se ti piace col bracciale rollo ci starebbe proprio bene nella tua nella tua collezione poi così da zero ti potrei consigliare una marea di cose chiaro che avendo già un tudor non ti dico piglia il tudor gmt avendo già lo speed master non ti prendi non ti dico prendi un altro mega sarebbe anche interessante un po diversificare a livello di marchi no per poter dire oggi mi metto un bright ring oggi mi mettono mega oggi mi metto un longin e oggi un tudor così tanto per ragionare comunque dai sei sulla buona strada sembra quasi che hai vissuto da vent'anni no invece era ieri che eri adolescente comunque va bene così ciao davide ciao ciro dalla provincia di napoli e sono cibi per presentarti la mia raccolta di orologi ma certo sono accompagnato da federico e danno ciao bimbi iniziamo dai grandi il primo orologio che intendo mostrarti e questo zenith stellina colore blu 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 con la sua fibbietta facevano anche blu ovviamente a carica manuale strano se niente va bene secondo zenith che intendo mostrarti quale quale zenith pre respirator viene chiamato piccadilli di forma ho capito anche questo con la sua fibbietta e il terzo ed ultimo zenith che possiedo è questo zenith sporto bello la quale ho montato questo cinturino racing e anche questo con corona e fibbietta belli zenitini lì mini collezione quarto vintage è questo splendido omega seamaster cosmic questo qua c'è la cassa colore blu grigio diciamo un blu di prussia blu non li vedo dove li vedi blu con indici leggermente colati goccia di trizio che sembra colata sul quadrante ho capito poi c'è questo longin admiral hf hf con frequenzi con la sua potrebbe essere 28.800 come 36.000 hf non vuol dire niente poi ho questo bellissimo certina ds2 ma che bella ma stico la casa nuova una famosa tartaruga sul fondello e il suo bracciale originale bracciale originale tanta roba andali fate molto benissimo complimenti altro vintage è questo vulcane sport ha sempre stile anni settanta ricorda un po zenith surf ma anche questo c'è una bella casa tutta satinata l'ho visto però se può veloce e buttarli via due eni car 2m da 38 quasi e l'altro da 32 entrambi automatici casa che mi ha sempre incuriosito ma certo adesso passando ai moderni poi il primo che ti mostro anche se proprio moderno non lo possiamo definire che questo c'è più di vent'anni un regalo di laurea questo emilton khaki automatico da 38 mm poi c'è il dress watch per antonomasia e un gas lo yungans max bill da 34 con i suoi bei numeri di quello stile ci piace cioè tanti idrologi tra veloci per tornando in svizzera invece questo oris big crown pointer date colore burgundy sia con il suo bracciale che con il suo cinque c'è il suo perché anche bracciale ragazzi mi do molti forte power wind edizione limitata bracciale in chicchi di riso e concordo su su chi effettivamente critica la scelta di mettere il datario su quel quadrante si stava bene senza in francia eccolo qua con yema wrist master questo la prima edizione si simpatico acquistato in preordine passando invece ai diver cosa c'è il primo che intendo mostrarti è è visto ci mancava oggi il citizen full loom roba master a quale ho montato questo cinturino in caociù rosso e su e su lavoro poi seiko mini turtle con il suo cinturino ecco la famosa onda di kanagawa canagawa tornando in svizzera c'è un bucchio questo splendido super squale con cinturino in chicchi di bracciale spavano chicchi di riso ma ho anche il suo cinturino e per ultimo tra i diver bravo volevano ed era scafo graf 300 colorazione blu un po grande diciamo deve essere però ci sta tutto le stazioni dai versetto un po troppo vicino alla camera inverno lo uso con il cinturino in pelle ed è stata invece preferisco il suo bracciale quello in gomma adesso due crono due crono primo uno stupendo vulcan crono grafetto versione panda argento ci ho montato questo cinturino racing lo alterno con il suo in gomma nera l'altro crono è un quarzo da un regalo mondia che ricorda un po l'emilton in traverso qua quanti c'è ma verso la fine due orologi due orologi diciamo curiosi che intendo mostrarti e sono questo che lo slow al quarzo cos'è segna le ore su le 24 ore slow mono lancetta e il trifoglio cos'è modello millimetro brand micro brand italiano monta movimento se non erro miota e segna l'ora su questi cerchi concentrici infine ti saluto con il classico g shock quarzo casio g shock grazie e un saluto a tutti gli amici del canale un saluto saluto a te e i tuoi simpatici figli che ci hai fatto conoscere before niente non saprei cosa dire di questa collezione un semplice 7 né più nemmeno perché non ho visto la particolare la prima metà tutta dedicata ai vintage no quindi sì lì tutti belli mi sono piaciuti tutti e poi dopo aspetta e no e dopo c'è loris big crown quello col quadrante burgundy c'è il mido power wind no c'è degli orologi anche sette e mezzo ti do mi rimangio tutto squale eberhard no 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 sette e mezzo veritatissimo ma è mai confuso con quegli ultimi due orologi il millimetro lì che si capisce che minchia il millimetro e quell'altro slow perché c'ha no due robe così non volevo dire perché sono i tuoi bimbi che guardano quindi due bruttanate però belli belli orologi tutti degni di nota altro non so che dire se è stato anche nei tempi poi c'è i tuoi bei tre tre libri lì degli orologi che è importante anche parallelamente a comprare per lei gli orologi è anche interessante lei non li legge i libri lei non gliene frega niente dei libri quando te sei a leggere il libro lei sta così guarda le fotografie se vede una fotografia che gli piace incomincia a tirarti l'orecchio darti lo scappellotto però leggere i libri lei no invece noi dobbiamo leggerli libri dobbiamo leggere i libri io intendo dire leggere i libri ok perché la carta ha sempre il suo fascino l'odore della carta quando apri un libro è veramente una roba sublime però se uno non ha voglia di leggere un libro no perché lo capisco anche leggere significa anche leggere online se ti metti lì e leggi la storia di un marchio online stai sempre leggendo stai sempre incamerando informazioni soprattutto stai anche fotografando come si scrivono le cose no quando uno dice ci vuole un ventaglio di termini ampio per poter descrivere un determinato concetto è i termini li impari leggendoli da altrove altrimenti non è che ti vengono infusi dall'alto no quindi leggere come ho fatto l'amico qua con i libri e collezionare l'orologio ci piace tutto quanto a noi ora ragazzi mi dispiace ma vi devo lasciare perché purtroppo ci sono dei gattini che mi aspettano su instagram cioè praticamente i video stanno fermi sono immobili quando io arrivo incominciano a partire i video e vedi tutti questi gattini qua che saltano da un divano all'altro si arrampicano fanno le lotte tra di loro si danno quelle zampate in mezzo secondo si danno 20 zampate a testa così e a me piace mi diverto mi faccio un sorriso e mi passo quella mezz'oretta così in relax ora io vi ringrazio quindi e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love andate andate andate